Supportare le persone spaventate e impaurite dalla psicosi del terremoto, la protezione civileana di Sulmona, in prima linea a Montreale per il volontariato del post-sisma. Un gruppo nodrito di persone che dal 18 gennaio scorso si alternano nelle tensostrutture, entrando in contatto con adulti e bambini tutti provati dalle recenti scosse e dal sisma di agosto. Per arrivare a Montreale una settimana fa i giovani hanno sfidato la bufera di neve, tre ore di viaggio, poi subito al lavoro con la sistemazione delle tensostrutture, il recupero degli effetti personali dei terremotati, nelle loro case, la cura e la messo in salvo degli animali. A raccontare la sua esperienza a un datigiemiriana di Tirro, giovane di Sulmona. La cosa che mi ha colpito, racconta di Tirro, è vedere queste persone che al minimo movimento della terra si alzano in piedi, pronte per fuggire, quando un attenso struttura non potrà mai crollare. È abbastanza difficile relazionarsi con queste persone perché comunque vivono una situazione di emergenza nell'emergenza. Molte di loro infatti sono rimaste per diverso tempo imprigionate nelle mura domestiche a causa dell'incente nevicata. Nei loro occhi, infatti, ma anche attraverso le loro testimonianze, si evince proprio il dramma senza fine che stanno vivendo dal 24 agosto, quindi con il terremoto di Amatrice, ma ancora prima dal 2009, cioè quando c'è stato il terremoto dell'Aquila. Al terremoto poi si aggiunge l'emergenza neve e quello che più mi ha colpito è proprio vedere queste persone che al primo sussulto del terreno, il minimo movimento, la minima scossa, si alzano tutti impauriti dalle proprie brandine come se volessero fuggire, pur essendo consapevoli che comunque li siedono in una tendo struttura che non può soltamente crollare o tantomeno tenerli imprigionati. Quindi si capisce appunto la situazione di tensione che stiamo vivendo. A Montereale con il capogruppo della protezione civileana, Marco Di Silvestro, sono stati impegnati Francesco Scipione, Domenico Iandi Marino, Leonardo Musella, Panfilo Faccia, Carlo Mosconi, Miriana Di Tirro, Maria Chiara Grossi, Dalila D'Agusto, Maria Grazia Civitareale, Angelo D'Aloisio, Luca Iezzi.